Un ufficiale dell'esercito che proviene dalla provincia più a sud d'Italia fa dei saluti. Però è anche bello per me, perché io appartengo a una di quelle poche categorie d'Italia che hanno l'obbligo di fare sport. Non so se lo sappiate, però noi dell'esercito militare abbiamo l'obbligo almeno i 5 ore alla settimana di fare sport veramente. Vi porto i saluti dell'esercito italiano, del comando militare esercito Lombardia in particolare dove prestiamo servizio e vi anticipo, rubo la parola al presidente del CONI, che il centro sportivo olimpico dell'esercito il 15 dicembre riceverà il collare al merito sportivo del CONI. Vi ringrazio per l'attenzione e siccome sono uno sportivo non vi voglio occupare spazio. Grazie.